Passeggiando per gli affascinanti borghi storici della nostra provincia, è facile non accorgersi che più di un terzo degli edifici sono inagibili. In tutto 14.600 che potrebbero ospitare, secondo i calcoli contenuti nel recente studio dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio, 36.500 abitanti. Per sensibilizzare e mostrare i progressi sul fronte del recupero edilizio, una mostra nel cuore della città di Sondrio. Questa mostra è stata curata dalla Commissione Giovani dell'Ordine Ingegneri della provincia di Sondrio e veramente ha una qualità e dei contenuti apprezzabili che invito tutti a visionare qui nella sede del municipio di Sondrio. Questi progetti sono delle tesi di laurea redatti dagli studenti del corso di laurea quinquennale in Ingegneria edile e Architettura del Politecnico di Milano. Sono tutti progetti che sono stati selezionati per la loro qualità, per la loro grande attenzione e peculiarità e sono articolati all'interno del territorio della provincia di Sondrio e trattano tutti progetti di recupero del costruito. I progetti si trovano nelle sale espositive di Palazzo Pretorio, aperte dalle 9 alle 19 fino al 18 luglio. Un invito sia per conoscere alcuni borghi dismessi, alcuni edifici emblematici del nostro territorio oggi abbandonati e per vedere e accendere il dibattito degli spunti su possibilità di valorizzare e di valorizzare il territorio nel proprio complesso.